buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere assieme un altro sito un altro tool che ci permetterà di trovare gli interessi in e poi più alti del settore cripto in pochi e semplici clic mi raccomando prima di addentrarti in questo settore e prima di andare a depositare le tue finanze nel settore dei fai ovvero nella finanza decentralizzata devi conoscere appieno sia benefici ma soprattutto i rischi nel momento in cui tu stia guardando questo video non avessi ben chiaro che cos'è la finanza decentralizzata quali sono i rischi e quali sono anche i benefici e non avessi ben chiaro una gestione del portafoglio ti consiglio di prenderti del tempo e di guardare i video che trovi nella playlist corso cripto valuta bloccina all'interno di questo canale oggi usare tutti gli strumenti informatici messi a disposizione del web ed investire una parte del tuo denaro in una formazione approfondita e ora andiamo a vedere che cos'è questo tool ovviamente dopo la sigla la pagina ufficiale di coindics raggiungibile all'indirizzo coindics.com coindics è un portale riguardanti la defai che serve a colpo d'occhio a trovare gli interessi maggiori attualmente disponibili in alta sinistra abbiamo a valore totale del settore i vols i protocolli e le cene disponibili ed è un portale utilissimo a parte per il ruolo che svolge perché in un colpo d'occhio per l'appunto abbiamo 26 cene disponibili 59 protocolli analizzati e 6.936 volte disponibili quindi senza saltare da un sito all'altro dalla sua app un dex un amm un volt riusciamo in un unico luogo andare ad individuare gli interessi migliori quali sono i trend degli ultimi giorni possiamo anche creare degli albert e inserire anche i nostri indirizzi mail per ricevere puntualmente gli aggiornamenti sulle migliori opportunità tutti i martedì a prima vista appena tiriamo sul sito abbiamo i best volte nella defa i di oggi le piattaforme in trend e i nuovi protocolli subito più sotto abbiamo le cene più utilizzate e tiri on by na smart chain solana polygon avax fanto arbitrum de fece in cielo cronos fu scusa ma cliccando sui tastini qua destra abbiamo un altro elenco e selezionando una cena caso come ad esempio la by na smart chain vedete che qua a sinistra cambiano le piattaforme disponibili se clicco sui tiri non abbiamo alcune se clicco sulla by na smart chain abbiamo altre e così via selezionando la by na smart chain possiamo stringere il nostro campo di ricerca cliccando su lp stake single stake no impermante loss e stable coin oppure possiamo andare a inserire il simbolo di un token che stiamo ricercando da mettere a rendita un ep why oppure un tvl tvl che va da dieci a cento milioni in alternativa possiamo fare zappi in tra i vari protocolli alpaca ip swap out far bifi belt e andare a snocciolare ea vedere gli interessi maggiori su quale coppia eventualmente vengono date oppure su quale single stake vengono dati gli interessi migliori un consiglio che vi posso dare quando andate a operare nei siti dove fate la ricerca degli e più ai dei protocolli di defy oltre agli interessi maggiori e le reward più alte andate a vedere ea selezionare i protocolli le coppie di coin o token dove vi è un tvl maggiore è sempre meglio andare operare nella defy dove troviamo un total valo e lock più alto rispetto a tanti altri protocolli è anche vero che in una pool dove c'è un tvl maggiore rispetto ad un altro probabilmente gli interessi saranno anche più bassi però è sempre meglio andare a inserire fondi dove ci sono delle pool dei protocolli dove ci sono altri utenti che depositano le loro cripto valute e loro token e dove c'è più ricchezza dove c'è più cassa rispetto al pool o uno swap dove per attirare utenti da degli interessi elevatissimi però il tvl è molto basso ed è molto rischioso operare in quel senso quindi vale sempre la pena valutare e bilanciare bene il rapporto rischio e rendimento utilizzare dei portafogli ad altissimo rischio e non depositare mai soldi che non si è disposti a perdere e soprattutto come sto vedendo ultimamente ragazzi non indebitatevi per andare a inserire dei fondi nella defy a forza di rincorrere questa ricchezza in breve termine alla fine si rimane o si diventa povere mi raccomando state molto attenti non siete avvezzi a fornire liquidità e utilizzare gli lp token da mettere a rendita potete tranquillamente andare a cliccare su single steak oppure stable coin selezionando una cena di riferimento come ad esempio la biana smart chain single steak andare a vedere gli e più ai che vi danno sulle toche o le cripto valute di riferimento ad esempio bnb sulla piattaforma di al pacca sulla biana smart scene sia un e più ai del 36,52 per cento per accedere direttamente ad al pacca si può fare una ricerca su google o se no andare a cliccare qua a destra che è la cosa migliore perché si evita di andare a incappare in siti scam e se terra direttamente sulla piattaforma di alpaca finance dove abbiamo bnb 6,52 per cento in e più ai dove possiamo depositare oppure per elevare relativamente ad alpaca finance se andate sempre sul mio canale youtube trovate una recensione dettagliata sul suo funzionamento ovviamente va da sé che per interagire con questi protocolli bisogna avere dei wallet non custodia come ad esempio metamask debitamente settate sulle cene di riferimento ho pubblicato un video poco tempo fa sempre nella playlist percorso cripto e blog cene dove vi faccio vedere coin tool che oltre alle funzioni che vado a analizzare all'interno del video con un click che vi permette di settare metamask con la maggior parte delle cene disponibili oltre a settare metamask sulle cene disponibili per ogni block chain dovete avere il token di riferimento della cene sia per l'interazione con i protocolli ma soprattutto per il pagamento delle fi si è stato operando con i suoi tirion dovete avere degli et se operate sulla biana smart chain dovete avere di bnb se operate su solana dei sol e così via mi raccomando non fate questo errore di farvi trovare sprovvisti dei fondi per operare per pagare le transazioni quindi il funzionamento di questo sito è veramente semplice quello che mi preoccupa un pochino soprattutto per i men esperti e l'utilizzo della defy in sicurezza sempre nella playlist e in questione trovate dei video molto interessanti per quanto riguarda l'impermanente loss i rischi legati al landing i rischi legati all'approvazione senza limiti di spesa nei protocolli defy e come mettere in sicurezza il vostro metamask mi raccomando prima di operare nel settore formatevi adeguatamente bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento come sempre spero che il video l'abbia trovato utile interessante vi invito per supportare il mio lavoro ad iscrivervi al canale a lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube e riattivare la campanellina per restare sempre aggiornato sulle uscite del mio video vi ringrazio per il vostro tempo per il vostro supporto vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto ciao a tutti